La legge di bilancio è arrivata in commissioni giovedì, da giovedì non è stato votato un emendamento, non è stato votato un articolo, su 500 emendamenti 421 sostanzialmente sono stati accantonati. Domenica notte il ministro Giorgetti si è presentato con un pacchetto di 109 misure, quindi sostanzialmente hanno riscritto la legge di bilancio, ma neanche su quelle misure su cui dovrebbero essere d'accordo hanno iniziato a votare e tutto questo è accaduto non perché l'opposizione ha fatto istruzionismo, anzi la nostra opposizione poi è stata collaborativa, non c'era accordo all'interno della maggioranza. Per due terzi questa manovra copia sostanzialmente misure che erano già state approvate dal governo Draghi, per un terzo hanno tentato di piantare bandierine, la più famosa delle quali, quella sul POS, è stata frutto di uno scontro con l'Europa ed è stata ritirata. Io penso che oggi venga cancellata definitivamente anche la loro pretesa, la loro rivendicazione di essere pronti, perché hanno dimostrato che pronti non sono. Quello che è successo dimostra che è quello che loro hanno raccontato in campagna elettorale. Siamo pronti, siamo d'accordo su tutti, la nostra maggioranza è granitica, c'è coesione e il nostro programma è questo e quindi arriveremo... Non era così. Allora, l'uscita... Allora, l'uscita...